Mi chiamo Valentina e sono di Brindisi e mio marito non sa se la figlia della sua amante è sua. E che sta è la mia storia, accomminge Anna. Alla giovane età di 12 anni perdo mia madre. Purtroppo un brutto male se la porta via e mio padre rimane vedovo a 40 anni. Fortunatamente successivamente lui incontra un'altra donna che si prende cura di noi tre sorelle per 40 anni. A 14 anni conosco un ragazzo e ci innamoriamo follemente. Mio padre però non vuole, nonostante la sua sia una famiglia di persone umili, lavoratori e benestanti economicamente. Cerca di fare di tutto per allontanarmi da lui, ma fortunatamente all'età di 21 anni riusciamo a sposarci. Io lavoro come ragioniera fino a che nasce il mio secondo genito. Dopodiché decido di comune accordo con mio marito di crescere i miei figli. Gli volevo dare quella presenza di mamma che io forse non ho avuto. Mio marito è un imprenditore edile e inizia a fare dei lavori a casa di una coppia. Questa coppia ben presto diventano dei nostri amici. Un'amicizia troppo ossessiva nei miei confronti. Lei non fa altro che ripetermi che io sono come nostra rollea per lei, che mi vuole bene. Ma c'era qualcosa che non mi piaceva in lei e ho chiesto a mio marito di allontanarla dalla nostra vita. Ma lui non voleva. Dicevo che ero paranoica, che ero folle a pensare solo certe cose che lui non avrebbe mai potuto guardarla sotto altri occhi. Così vado dalle mie sorelle e gli confido questa cosa, dicendomi tutti i miei dubbi, le mie sofferenze. Ma loro addirittura chiamano mio marito dicendogli che mi devo far curare, che dico delle cose brutte su di lui. Io ero sicura di quello che sentivo, anche se non avevo le prove. Incomincio a ingrassare, mi lascio andare e vado in un periodo di depressione. Fino a che un giorno, piangendo, prendo mio marito e gli chiedo se mi può dire la verità. Che ero esausse, che non ce la facevo più. Volevo farla finita. Così lui, piangendo tra le lacrime, mi dice che avevo ragione. Che effettivamente aveva avuto una storia con quella donna, che era durata un po' di tempo, ma che amava solo me. Io ero distrutta, ma finalmente mi ero liberata da quel dubbio che mi stava logorando l'anima. Poco dopo, mentre io e mio marito cercavamo di salvare questo matrimonio, mia sorella si ammala gravemente e ha bisogno di midollo. Fortunatamente io ero compatibile al cento per cento e grazie a me e mia sorella si salva. Purtroppo poco dopo, però, mio padre ha un ischemia e la moglie si ammala. E nel giro di breve tempo, entrambi volarono in cielo. E il passato torno a farmi visita. Quelle mancanze, quel dolore. Ancora mi attanagliavano. Ancora li percepivo nell'anima. Cercavo di andare avanti. E mentre sembrava che piano piano stavo ricucendo il rapporto con mio marito, lui mi confida che questa donna ha avuto una bambina e che lui non sa se è sua figlia. Ora sono trent'anni che siamo insieme. Questa cosa non la sa nessuno, né tantomeno i miei figli. Lui vorrebbe fare il test del DNA per scoprire se è sua figlia perché vuole saperlo. Io non voglio. Non voglio perché quella donna mi ha fatto già troppo male. Perché andrei a rompere l'equilibrio dei miei figli, l'equilibrio di casa nostra. E non sono pronta ad avere una famiglia allargata. Già mi è costato tanto, troppo, superare tutto quello che c'è stato. Anche questo per me sarebbe un'ennesima sconfitta. E quindi adesso mi trovo così. In balia delle mie paure, dei miei dolori, delle mie emozioni. E non so che fare. Forse lui ha tutto il diritto di sapere se quella persona è sua figlia. Ma io non ce la farei. Non ce la farei a sopportare che quella persona sia la prova esistente di quello che mi ha fatto mio marito. Perché per me purtroppo sarebbe solo questa. Nonostante io sia mamma, non riesco ad andare oltre. Forse sarò limitata. Forse qualcuno può giudicarmi. Ma non riesco. Non riesco veramente ad andare oltre, a pensare che questa persona dovrebbe far parte della nostra vita. A guardarlo ogni giorno e a capire quello che ha fatto mio marito. Sarebbe per me un morire lento. Spero che chi ha vissuto come me, una vita con tanto dolore, con tante mancanze, con una perdita della mamma. Perché solo chi l'ha persa sa che significa vivere senza quella persona, che è la persona più importante della nostra vita. E te la porti dietro. E nonostante la nuova compagna di mio padre ci abbia cresciuto con amore, non potrà mai sostituire lei, la mia mamma. Mi trovo in un periodo della mia vita molto difficile, molto complicato. E sto cercando una soluzione, una risposta per agire nel migliore dei modi possibili. E spero prima o poi che riesco a venire a capo da questa situazione e a vivere, forse, almeno la mia vecchiaia, serenamente. Buona vita. Io sono una narratrice e questa storia fa parte del mio format che si chiama Eroine invisibili, che ho creato il primo giugno 2023. Abbiamo già quasi oltre 200 storie, 200 storie vere di donne che si sono raccontate, che si sono confidate, che si sono aperte, per dare un grido al loro dolore silenzioso. Eroine invisibili è un format nato affinché le donne possano, con tutta tranquillità, in anonimato, cambiando nome e città, raccontare la realtà dei fatti, senza però andare a perdere la propria privacy. Questo format vuole essere un posto sicuro per chiunque voglia essere ascoltato, senza però essere giudicato. Perché su questa faccia della terra nessuno può essere in grado di giudicare qualcun altro. E spero che prima o poi queste storie diminuiranno sempre di più, fino a che non esisteranno più Eroine invisibili, ma sono Eroine visibili. A cominciare.